Ciao a tutti, da Argomenti ci troviamo presso piccole canaglie attività abbigliamento per bambini nella città di Roma nel quartiere di Borghesiana via di Vermicino 13. Cosa dire di questa attività? Un'attività portata avanti con grande professionalità sia da Ilaria, da Valerio, moglie e marito, quindi una cosa anche bella insomma è lavorare insieme e condividere. Allora Ilaria questa bellissima attività, complimenti, una moda per bambini perché appunto la moda parte sin dai piccoli. Grazie, grazie, sì è un bel negozio e ci teniamo tanto a scegliere i capi giusti per i nostri clienti, abbiamo diverse scelte sia dalle cose un po' più economiche che fino ad arrivare alle macchie che vanno in questo momento, quindi i nostri clienti sono contenti, sono soddisfatti, questo ci fa piacere. Allora Valerio cosa dire? Innanzitutto avete una figlia bellissima che lei proprio ci tiene alla moda e quindi devi sopportare due donne, la moglie e la figlia. Allora Valerio veramente una bellissima attività. Grazie, grazie e quindi che dirvi non resta di venire a trovarci ecco, veniteci a trovare. Perfetto, senti Valerio ecco anche te come uomo appunto lavorare nella moda perché poi comunque le mamme arrivano e i bambini piccoli che ci tengono e sono belle soddisfazioni. Sì 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 direi proprio di sì direi. E adesso invece andiamo a vedere anche Floriana. Ciao Floriana, allora anche te insomma nell'ambito della moda a bambini sono belle soddisfazioni? Sì sì, senza altro. È una bella attività e va benissimo e siamo contentissimi. Ok, allora Ilaria, Valerio, complimenti, ricordiamo a tutti. Via di Vermicino 13, quartiere borghesiana, piccole canaglie. Ciao a tutti da Argomenti. Ciao.